buongiorno a tutti amici tech viaggio questo video lo facciamo per il nostro amico claudio che ci ha chiesto di vedere com'era la zona in questi giorni di festa qui hanno messo una bellissima ruota panoramica qua fra un po' apriranno tutte le casette si respira già l'aria di natale stanno tre gradi stanno montando la struttura ora andiamo a vedere anche la parte dietro della biblioteca dove ci sono i giardini sono кус Bert Königel qui hanno fatto un bellissimo monumento alla memoria dei caduti della guerra queste sono le casette tipiche dei pescatori